Siamo qui alla Dogana Ostrangar che torna a vento con Barbara Meggetto, Presidente dell'Egambiente della Regione di Lombardia, alla manifestazione per salvare la brughiera contro l'avventamento del decreto aria. Quali è il messaggio di questa giornata e se davvero pensate che corre la Corte di Giustizia europea? Sì, un'altra manifestazione per ribadire che noi ci siamo, che torneremo in piazza finché non otterremo una ragione perché sappiamo di avere ragione. Qui non si tratta solo di un decreto o di un masterplan, si tratta di non sovvertire quelle che sono le leggi dello Stato italiano. C'è un decreto di via, è firmato da due ministri e si fa una legge partendo da un concetto veramente totalmente fuori luogo, che è quello della qualità dell'aria e delle procedure di infrazione aperte. Quindi si dice che bisogna implementare lo sviluppo dell'aeroporto, quindi del traffico aereo, per ridurre l'inquinamento atmosferico. posto che le merci ci devono andare in aeroporto in qualche modo, riteniamo che sia davvero un'assurdità sovvertire tutto per trovare, per poter allargare e fare in modo che si allarghi il cargo city nell'area della bruyera. Ci sono altre possibilità, dovevano essere esplorate e valutate, non lo si è fatto. Bene, noi daremo battaglia e arriveremo anche alla Corte di giustizia europea se necessario.